Una indagine scaturita dopo un tentato duplice omicidio, quella condotta dai carabinieri di Marcianise in provincia di Caserta, che hanno eseguito 18 ordinanze di custodia cautelare, 14 in carcere e 4 ai domiciliari, emesse dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli su richiesta della locale direzione distrettuale antimafia. Una inchiesta che ha fatto luce su una rammificata organizzazione criminale dedita allo spaccio della droga, in particolare cocaina e crack, a Melito di Napoli per conto del clan amato pagano. Sequestrati 12 chili di stupefacenti tra cocaina, crack, acisce e marijuana. Il tutto è partito dal tentato omicidio di due persone di Marcianise avvenuto a Caivano, provincia di Napoli, il 12 settembre 2012. Un'attività di indagine che si è sviluppata tra la fine del 2012 e gli inizi del 2015 e nel corso della quale siamo riusciti, grazie a ricorso ad attività tecniche di intercettazione ambientale e telefonica, siamo riusciti a ricostruire un gruppo di persone, tra l'altro appunto i destinatari dell'odierno provvedimento, che a Melito di Napoli gestivano le piazze dello spaccio di sostanze stupefacenti. All'epoca gestite appunto dal Riccio Mariano, all'epoca latitante, il quale si avvaleva di un direttivo di soggetti provenienti da Marano di Napoli e gestivano il tutto per conto del clan camorristico denominato amato pagano. L'attività ci ha consentito inoltre di procedere all'arresto in fragranza di 14 persone a riscontro delle indagini che venivano svolte e dal sequestro di ingenti quantità di sostanza stupefacente. Grazie.